E salve a tutti ragazzi, sono AllGamesOne e siamo tornati oggi in un nuovo quiz sulla geografia. Non perdere tempo, perché ho dovuto far partire in anticipo il timer e il quiz, perché altrimenti il video veniva troppo lungo e non potevo caricarlo. Oggi proveremo a indovinare, proveremo a ricordare i nomi di tutti i paesi del mondo, non sarà semplice, anche perché vanno scritti in inglese. E molti quindi, il Salvador, molti quindi non riusciremo proprio a scriverli e rimarranno lì, a loro stessi. Iniziamo dal Nord America, solo perché ci sono meno nazioni, sarà difficile ricordarsi tutte le isolette. Andiamo con Barbados, le Bahamas, non trovo la B, Bahamas, Antigua, ok, non so se l'ha presa a Leone. Questa qui grande invece è in mezzo, cos'è? Dopo possiamo anche andare a controllarle giù dove ci sono i nomi delle nazioni mancanti. C'è l'elenco di tutte le nazioni indovinate, quindi possiamo darci un aiuto per indovinare le mancanti. Suriname, Brasil, Argentina, Peru, Cile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, poi andiamo in Europa. Franca, Francia, così finiamo anche il Sud America, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Danimarca, così completiamo anche l'Agroellandia, Norvegia, Svezia, Finlandia. Zoomerei sull'Europa, a questo punto, Estonia, mettiamo subito la Russia, la Bielorussia, Latvia e quell'altra è la Lituania. Ucraina, e non so scriverlo. Vediamo dopo, Moldova, Romania, Bulgaria, Serbia, Kosovo, Grecia, Albania, Macedonia. Stiamo facendo tutti i Balcani, che sono un po' più difficili da ricordare. Croazia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Austria, Polonia, Malta. Stato, perché non dobbiamo scordarci anche i microstati, quindi li scriverei subito. San Marino, Vaticano, Monaco, Andorra, poi abbiamo Lichtenstein, che però non so scrivere. E l'ultimo è Lussemburgo. Ok, Netherlands, Belgio, Spagna, 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 Portogallo, che ho sbagliato a scrivere. Italia, Svizzera, ok, poi Repubblica Ceca. Andiamo con la Turchia, proviamo un'altra volta a scrivere l'Ucraina, però... No, no... Allora, UK penso. No, è proprio zero. Non riesco a indovinarlo. Indovinare la scrittura. Andiamo con la Georgia, ci spostiamo verso il Medio Oriente. Azerbaijan, Armenia, Cipro, mi ero scordato, Libano, Israele, Siria, Giordania, Iraq, Iran, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi, l'Arabia Saudita, Oman, Yemen. Non stiamo andando malissimo, quelli sono gli Emirati Arabi Uniti, Turkmenistan, ci spostiamo verso l'Asia, Uzbekistan, poi Afghanistan, pochi c'è più, Kazakistan. Allora, questa qui è il Kirjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan è quell'altro. Tajikistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Bangladesh, Cina. Proviamo a scrivere Kirjikistan, ma la vedo impossibile da indovinare, infatti. Allora, Mongolia, Giappone, 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 le due Coree, del sud e del nord. Poi ci spostiamo in questa zona, Taiwan, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambogia, Sri Lanka, Scrivo adesso le Comoros perché mi sono venuto in mente, Comoros, se no poi ne dimentico. Le Seychelles, che sono là sotto, queste più vicine all'India non le ricordo, perché quando mai. Filippine, Malesia, Singapore, il Brunei è quella piccola macchiorina, Indonesia, Papua, Nuova Guinea, Timor Leste. Ok, Australia, New, Nuova Zelanda, e poi le isolette dell'Oceania, che sono veramente impossibili da ricordare tutte. Infatti, non le ricordo tutte. Nauru, Palau. Non me ne vedo in mente altre, quindi non perdiamo tempo, andiamo col Nord Africa, Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto, Libia, Lora, Sudan, Eritrea. Ci siamo spostati sulla destra, Djibouti, è quel piccolo, Somalia, è il corno, l'Etiopia, L a fianco, Mauritania, le Mauritius, che sono delle isole, che non so dove sono. Però abbiamo prese il Mali, Niger, la Nigeria, il Gigachad, Senegal, Gambia, Burkina Faso, Cameroon. Repubblica Centro-Africana, quindi Centro-Africana, quindi Centro-Africana, ok. Sul Sudan, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Togo, Benin, mi è venuto in mente Tonga, col gol di Mascara. Costa d'Avorio, Ivory Coast, Liberia, Guinea, Equatorial, Guinea, Guinea Equatoriale, con Gabon, Gabon. Gabon, la Guinea Bissau, Guinea Bissau, e mi mancano Igana, e me ne manca una lì, che però non riesco a ricordare. Quindi andiamo, scendiamo. Scendendo abbiamo La Repubblica Democratica del Congo, Democratic Republic of Congo, La Repubblica di Congo, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico. Mozambique, andiamo sulla punta dell'Africa, Madagascar, Botswana, il Sud Africa, Lesotho e Eswatini. E non abbiamo preso queste due, ok, ci mancano un po' di nazioni, proviamo ad indovinare. Questa qui, in Europa, è l'Iknerstein, e questa è l'Ucraina. Quindi diciamo che le abbiamo prese praticamente tutte. In Asia, ci mancano il Kyrgyzstan, e poi queste isolette. Aspetta, Sao Tome, che cosa è successo? Sao Tome, ok, che sono le isolette davanti al Camerun, è vero. Quelle due, quelle due più grandi le devo indovinare. Una inizia con la... con la... non lo so. E niente. Peccato perché, allora, il Liknerstein, Ucraina, che si scrive così. Le Maldive, è vero, sono quelle. E il Kyrgyzstan che l'avevo. Capoverde, queste isole qui sono. Poi ci vive mio zio, no, ma Capoverde. La Namibia, è questa qui, grossa. Poi Sierra Leone, e lo Zimbabwe. Sierra Leone è questa qui, e lo Zimbabwe è questa. Poi Honduras, e quella è la Giamaica, pure non ho messo. Un po' di isolette. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Guardate anche gli altri quiz di geografia. Se volete provare il quiz, ve lo lascio in descrizione. E alla prossima. Ciao, ciao.